comportamenti sbagliati ma all'inizio è iniziato tutto perché abbiamo deciso di sostenibilità ambientale ovviamente i giovani bisogna rispettare il nostro ambiente anche perché il mondo che creiamo oggi poi sarà il nostro mondo in futuro e quindi allora un applauso a tutto l'ITIUS bravi complimenti anche ai dirigenti ecco adesso invece verrà assegnato il premio alla miglior fotografia e prego se è in sala Enrico Casolari per Forland che dovrebbe venire a consegnare il premio e la miglior fotografia